Altra sfida per la società sportiva di nuoto Forever Swim, per la quarta giornata del trofeo Master Iron Wisp, impegnata a Pagani. Domenica 10 aprile, Iello dovranno dare il 100% al Divers Drive Fitness Club, dove si svolgeranno gare individuali e staffette, alla presenza di atleti Master tesserati provenienti da tutta la regione Campania. Le gare si svolgeranno al mattino, dalle ore 8.45 alle 13.30 e al pomeriggio, dalle ore 15.15 alle 19.30. A salire sul podio saranno i primi tre atleti classificati per ogni stile di gara appartenente alle singole categorie d'età. Inoltre, a fine manifestazione, saranno premiate anche le società sportive con il maggior numero di punti nella classifica squadre. La Forever Swim, attualmente prima tra le società della provincia di Salerno, nelle tappe precedenti si è dimostrata molto competitiva e a Pagani non intende affondare l'obiettivo, ma anzi superare i propri limiti.